Presentati entro i termini stabiliti piani di razionalizzazione della spesa delle aziende sanitarie locali abruzzesi. Si tratta di prospetti che prevedono misure specifiche per migliorare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e sociosanitari e che includono un'analisi approfondita delle risorse umane, tecniche e finanziarie. Entrando nel dettaglio delle misure, l'asla di Avezzano sul Monalacuila ha orientato le proprie politiche di risparmio sui costi interni per un totale di circa 10 milioni di euro la cui spesa farmaceutica è stata ridotta di poco meno di 3 milioni, 3,9 milioni invece la riduzione per beni e servizi con un miglioramento stimato in oltre 18 milioni. Ridotti invece per circa 16 milioni e mezzo i costi interni dell'asla di Lanciano Vasto Chieti che prevede di risparmiare oltre 11 milioni sulla spesa farmaceutica. Le manovre di efficientamento dell'asla di Pescara prevedono 4 milioni e mezzo di riduzione di beni e servizi a cui si aggiunge una rideterminazione dei valori della mobilità per circa 19 milioni. La asla di Teramo ha proceduto infine con una rideterminazione dei ricavi di circa 7 milioni oltre a una riduzione dell'utilizzo dei contributi in conto esercizio per investimenti per circa 5 milioni con un miglioramento stimato di 4 milioni e mezzo. I piani una volta acquisiti al protocollo regionale saranno sottoposti al baglio degli uffici del Dipartimento Salute della Regione e qualora non risultino conformi agli indirizzi stabiliti dalla legge regionale, le asla avranno 30 giorni di tempo per apportare le modifiche necessarie. L'assessore Veri ha voluto sottolineare l'importanza cruciale di questo processo di razionalizzazione parlando di un passo fondamentale verso una gestione più efficiente delle risorse sanitarie. Il nostro impegno, sono state le sue parole, è rivolto a garantire che i servizi sanitari restino di alta qualità ed accessibili a tutti i cittadini senza intaccare la spesa del personale nelle prestazioni fornite dalle nostre strutture ospedaliere. ...nei pronto soccorso, in modo da trovare quell'assistenza adeguata e a seconda della complessità della patologia poi indirizzare il paziente. Per cui ci sarà proprio un codice definito nei vari pronto soccorso.